non è niente è niente ma tu che ne sai che non si è rotto professore ma vuoi cura di un parame si non si è rotto o no? eh già permettete ma anche queste cose vengono a voi che ci sono esperienze a voi eh ma fai piano però hai già dato la capa sta da voi quieto, fidatevi eh fidatevi, fidatevi ma che mi devo fidare? cioè tu non puoi partire in quinta così cioè tu fai di matto ma professore di matto? che te ne hai fottuto a mamma? ma che ne hai fottuto a mamma? ne hai fottuto a mamma? quella è un intercalare figlio di mignotta eh? Cristian io non dico che tu non devi provare rabbia, non devi sentirla però almeno imbrigliala cioè canalizzala verso qualcosa di più alto Cri, lo dico per te veramente quando ti arrabbi quando succede che perdi la testa firmati conta fino a dieci e pensa guarda guarda cosa sto facendo pensare ma io a fuori pensavo che sia in sala l'unito no venite a casa venite a casa pure mamma si chiamava Cecilia ah si? è morta di tumore sei anni fa lo tumore è una merda mamma era che cazzo assai mi ricordo che mi diceva sempre che non mi ero fatti a mai scema nessuno come riuscite lui e ora gioco con la maglietta della Roma col numero 7 col nome suo Fierro non è una soddisfazione mi dispiace solo che c'è giù brutto fa fare una bella vita perchè è morto l'associazione è per lei l'associazione è per lei ma mamma manca assai è brutta sta su ma viva manca si che è? appazzeriggere una cosa e dici facendo proprio schifo così e riro tu riro